Un atto di vandalismo ha scatenato l'indignazione del popolo web. I soliti gnoti pare che abbiano preso di mira una cabina telefonica a rondovolta a Sanremo. La cabina è stata sventrata e d'ora l'autore delle foto pubblicate su Facebook, Roberto Pisano, spera in un intervento veloce e risolutivo per dare un volto ai colpevoli, visto che in zona ci sono installate le telecamere di videosorveglianza.